Ciao Terza! Oggi cominceremo a risolvere qualche problema insieme. Partiamo da problemi molto semplici, con tutti i dati utili. Il problema dice questo. Charlie Brown e i suoi amici oggi giocano con due monopattini e sei macchinine. Quindi i dati sono due monopattini e sei macchinine. Il problema chiede con quanti giochi giocano Charlie Brown e i suoi amici. Possiamo sintetizzare la richiesta scrivendo giochi in tutto. Per risolvere questo problema basta sommare due più sei. Risolvo. Due più sei, non c'è bisogno nemmeno di metterlo in colonna, fa otto. Per rispondere al problema, quindi basta dire che Charlie Brown e i suoi amici utilizzano otto giochi. Rispondo. Utilizzano in tutto otto giochi. Fine. Al prossimo problema! Ciao a tutti!